Ciao carissimi, è diventato verale su internet, nei vari social, sia russi che adesso anche occidentali, e poi è stato ripreso anche dal mainstream il video in cui il figlio del capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, figlio che si chiama Adam, picchia un detenuto, gli dà dei colpi sia con le mani che con le gambe, poi lo butta per terra, lo picchia anche per terra, insomma un video molto breve, però violento, che ha fatto discutere diciamo molti, in Russia ovviamente c'è un'enorme discussione, alcuni dicono insomma è una cosa pessima, una cosa brutale, gli altri invece hanno un'altra opinione, da noi qua in occidente bisogna dire che questo video è stato presentato in maniera molto parziale, senza approfondire il contesto, qua siamo sempre ai livelli pessimi dell'informazione, e questo caso è l'ennesimo esempio, addirittura c'è una disinformazione palese perché il Corriere della Sera è uscito con il titolo il figlio di leader ciceno Ramzan Kadyrov, picchia un prigioniero ucraino, e ovviamente io questo titolo e la spiegazione a questa situazione l'ho pubblicato anche sul mio canale privato Telegram dove ho spiegato ampiamente la situazione, ci tengo di fare anche qui su YouTube, perché io capisco che strumentalizzazione di ciò che accade in Russia, qua in occidente, avviene sempre, qualsiasi cosa arriva, qualsiasi notizia arriva, qua viene strumentalizzata, e ovviamente uno dei motivi principali per cui questa strumentalizzazione funziona spesso è perché noi in Italia e anche in occidente in generale conosciamo poco sulla Russia, su ciò che succede in quel paese, sulla sua storia recente e così via. Innanzitutto qual è la situazione attorno a questo video? Come è successo che figlio di Ramzan Kadyrov, che si chiama Adam, ha picchiato questo prigioniero? Chi era questo prigioniero? Come mai è avvenuta questa cosa? Innanzitutto si tratta di un caso di cui io ho parlato mesi fa, quando un idiota 19enne, un provocatore criminale, io non ho altre parole perché nelle persone come queste, come questo ragazzo 19enne, io esprimo solo peggiori sentimenti, adesso vi spiego perché. Questo provocatore, questo idiota, ha bruciato il Corano nella città di Volgograd, adesso si chiama Volgograd, una volta si chiamava Stalingrado, e quindi questa è una città particolare, una città che sta alle porte del Caucaso del Nord. E' un po' una specie di l'ingresso dalla Russia verso il Caucaso. E storicamente in questa città c'è stato sempre un particolare equilibrio tra comunità cristiana, ortodossa, russa e quella musulmana di varie etnie, varie popolazioni provenienti da Nord Caucaso. In qualche senso in Russia questa città rappresenta anche una specie di esempio di ciò che sta accadendo nel Caucaso del Nord. E' un indicatore degli umori, degli equilibri che ci sono nel Caucaso. Ad esempio se nel Volgograd si iniziano, diciamo, tensioni tra diaspore caucasiche, ad esempio tra i Ciceni e i Deghestani, oppure tra Cabardino-Balcari e Osezi, questo significa che anche in Caucaso, anche nelle loro terre d'origine ci sono le situazioni molto preoccupanti. Quindi è da sempre stato un indicatore di ciò che sta accadendo nel Caucaso. Ed era molto importante questa città per la Russia, molto importante per la relazione tra la Russia e il Caucaso del Nord. Per questo motivo sia comunità ortodossa, sia comunità islamica in questa città si sforzano veramente per mantenere degli equilibri, per convivere in pace. Questa città, se si può dire, tra tutto il resto della Russia è un esempio di convivenza pacifica, anche di scambio culturale e anche di, diciamo, miscuglio familiare, perché ci sono tantissime famiglie dove c'è la mamma cristiana e papà musulmano, oppure al contrario c'è un papà cristiano e la mamma musulmana. Io, tra l'altro, questa convivenza con l'Islam ce l'ho nella mia famiglia, perché mio fratello più giovane, fratello di sangue Dimitri, lui è sposato con una ragazza musulmana di Dagestan. E quindi io so benissimo dell'argomento di cui sto trattando, non vi sto parlando di una cosa che ho sentito dire, so benissimo come funziona, so benissimo cosa significa una famiglia multiculturale, una famiglia multiconfessionale. La città di Volgograd è quindi da sempre stato un luogo dove questo multiculturalismo, dove questa convivenza è riuscita, dove è stato l'esempio di amicizia tra varie confessioni. Ovviamente non è semplice mantenere il livello civile di convivenza tra diverse culture, diverse religioni. Ci sono momenti molto, a volte, problematiche, difficili, soprattutto quando c'era la guerra in Cicenia. Ovviamente anche Volgograd era una ferita aperta. Anche lì all'interno c'erano molte situazioni preoccupanti. Spesso la linea di fronte passava proprio in mezzo alle famiglie. Per fortuna, dopo anni di sacrifici, dopo tantissime vite sacrificate dei soldati, si è restaurata la pace nel caucaso del nord e questa città è di nuovo diventato l'esempio di convivenza pacifica tra varie etnie, varie religioni. E quindi è molto pericoloso ciò che ha fatto questo idiota diciannovenne a pagamento. Lui ha già affermato che lui ha bruciato Corano per scatenare una guerra tra vari gruppi etnici. Cioè, quello che lui voleva fare, cari amici, non è semplicemente offendere un libro, perché quando noi cerchiamo di capire il perché viene fatto un qualche movimento, qualche affermazione, qualcosa di importante che scuote la società, noi dobbiamo capire qual è il motivo finale, qual è l'obiettivo finale di ciò che viene fatto. Alcuni dicono, ma sì, ha bruciato Corano perché era arrabbiato con musulmani. No, non era così. Lui ha bruciato Corano perché lui voleva scatenare una guerra di nuovo tra l'Islam e la cristianità all'interno della città. Cioè, lui sperava che bruciando il Corano, lui presentandosi da rappresentante della comunità cristiana, creerà un scalpore, un odio nei confronti dei musulmani, e quelli subito andranno ad ammazzare, ad accoltellare, a distruggere, uccidere i cristiani. Quindi lui sperava di creare una guerra. Ovviamente questo era il piano di chi ha pagato questo personaggio, perché lui, poi sottolineiamo, è un idiota, un utile idiota, 19enne. Ovviamente in mala fede, ovviamente lui ha pensato di quello che ha fatto, ovviamente anche lui era d'accordo con quel piano, però i suoi esecutori finali sono quelli che le hanno pagato e tra l'altro arrivano dall'Occidente. Quindi parliamo di nuovo di tutti intrugli, tutte le persone legate a varie associazioni democratiche, a vari personaggi come Soros e così via. Lui ha già affermato questa cosa, ha già spiegato con chi era in contatto, quindi ci sono tutti i nomi, i cognomi, ci sono tutti i dati, adesso gli inquirenti stanno risalendo a, diciamo, il luogo da dove provenivano quei soldi, quindi tutto sta svolgendo, l'indagine sta andando avanti. Intanto lui è stato arrestato ed è chiaro che lui ha cercato di provocare un nuovo confronto, una guerra, un confronto violento tra le comunità religiose nella città Volgograd, da sempre l'esempio di multiculturalismo e multireligiosità. Quando avviene una cosa del genere, quando una persona cerca di distruggere gli equilibri, è chiaro che si tratta non solo della rabbia di chi viene offeso perché una scrittura sacra viene, diciamo, bruciata. Per cui qua da noi in Occidente hanno rappresentato questa risposta violenta della comunità musulmana e anche di questo figlio Adam di Kadirov come un musulmano che si offende e vuole picchiare un cristiano che ha bruciato il Corano. In realtà non è così. Kadirov si è arrabbiato con questo personaggio perché questo personaggio, con questo gesto, ha cercato di distruggere gli anni di lavori e di sacrifici e anche il sacrificio molto importante che ha fatto il papà di Ramzan Kadirov, Ahmad Haji Kadirov, che sarebbe nonno di Adam, di quello che ha picchiato questo ragazzo. Quest'uomo ha dato la propria vita per creare in Cicenia la pace, per pacificare i cristiani con i musulmani. Magari molti non lo sanno, ma Ahmad Haji Kadirov era mufti di tutta la Cicenia. Mufti vuol dire leader religioso. Lui nella prima guerra cicena non era con i russi, lui era contro i russi, lui era per l'indipendentismo della Cicenia. Poi quando lui ha visto che il terrorismo che arrivava dalla parte della Georgia, dalla parte degli Stati Uniti d'America, attraverso vari canali in montagna, ha occupato la Cicenia, è diventato per la Cicenia una minaccia, lui ha capito che è molto meglio stare con i russi che il posto dei Ciceni e all'interno della Russia, dove era storicamente, e non con questi farabutti, perché a loro non fregava niente dell'Islam, non fregava niente dell'interesse dei Ciceni, loro volevano sfruttare questa terra per trasformarla in un luogo di guerra permanente, come ad esempio adesso stanno cercando di trasformare l'Ucraina in un luogo di guerra permanente per l'interesse degli Stati Uniti e dei paesi occidentali che vogliono semplicemente creare l'ennesimo focolaio di guerra nelle vicinanze alla Russia per complicare le relazioni internazionali, la crescita della Russia e le sue relazioni soprattutto con i paesi occidentali. All'epoca era Cicenia in questa situazione e il vecchio Ahmad Haji Kadir, una persona molto saggia, lui ha fatto questo gesto, lui ha cambiato totalmente la politica dell'indipendentismo ciceno, ha portato con sé la maggioranza dei Ciceni che l'hanno seguiti, e questo bisogna dire, in questo Ciceni sono stati molto intelligenti, lungimiranti, ma anche perché loro sono stati, diciamo, stancati da più di dieci anni di guerra che andava avanti. Ormai c'erano due generazioni di persone che sono stati cresciuti all'interno di questo decennio, che sono nati e cresciuti senza vedere un giorno di pace. Ovviamente questi sacrifici per ottenere una pace duratura, allianza con la Russia, una stabilità sia economica che politica, una specie di equilibrio sociale, religioso, multiculturale, tutto questo viene considerato dalla famiglia di Kadyrov un loro obiettivo primario e quando loro vedono qualcuno che fa qualcosa per distruggere quel valore per il quale il loro padre e nonno ha dato la vita, perché lui fu ucciso proprio dai terroristi, vi ricordo, ovviamente è normale che si arrabbiano, è normale che poi il nipote scassa di botte questo idiote che ha bruciato il Corano, perché per lui in questo gesto non è solo indignazione di un musulmano, in questo gesto è tutta disapprovazione di una persona che capisce che quanto è fragile può essere la pace e quanto semplice si può distruggere tutto quell'equilibrio per il quale il suo nonno ha dato la vita. Io sinceramente parlando non l'avrei picchiato così questo ragazzo di fronte a una videocamera in mezzo al carcere io l'avrei preso per mano l'avrei portato in un cimitero dove sono sepolti tutti i soldati russi e tutti i ragazzi ciceni che hanno combattuto nella seconda guerra cicena insieme, fianco a fianco contro il terrorismo islamico terrorismo wahhabita sopportato da Stati Uniti d'America, dalla CIA e da tutto il resto delle schifezze occidentali che fomentavano il terrorismo in Cicenia io l'avrei portato per tutte le file qualsiasi cimitero di qualsiasi città russa tanto ce ne sono parecchi anche stesso di Volgograd è molto grande io ci sono stato diverse volte o diverse persone che conosco che sono sepolti lì io l'avrei portato per quel cimitero e di fronte a ogni tomba lì davo uno schiaffo mi fermavo davanti a ogni tomba leggevo nome e cognome e le dava uno schiaffo come se lui stesse prendendo schiaffo dai sepolti morti che hanno dato la vita per la pace per quell'equilibrio che questo stronzo ha cercato di distruggere e rovinare bruciando Corano seguendo le istruzioni di una banda di bastardi oligarchi occidentali che non vedono l'ora di scatenare l'ennesima guerra sul territorio della federazione russa io avrei fatto così ovviamente il leader della Cicenia Kadirov e il suo figlio hanno agito al loro modo ma io avrei fatto in un modo diverso e vi sto sottolineando perché perché questo è stato un gesto non semplicemente di offesa a una sacralità religiosa offesa ai religiosi amici in questo gesto è stato offeso tutto l'impianto che mantiene questo equilibrio su quale si basa tutto il Caucaso lì basta una scintilla basta poco se lasciare questa cosa a diciamo a scadere si può veramente innescare di nuovo una guerra e questo personaggio questo ragazzo di Shonavenne lo ha fatto dovrebbe ringraziare Dio che lui non si trova in un paese islamico dove lo avrebbero già fatto a pezze per una cosa così per cui quando io leggo certi commenti qua in occidente che dicono no ma che mostruosità questi Ciceni cattivi ma questo Kadirov ma come si permette si permette si permette e ha diritto di permettersi perché chi commenta qua vivendo senza sapere cosa è stata la guerra Cicena dover tapparsi la bocca si dovrebbe e non può neanche affrontare le questioni dei quali non sa niente Kadirov ha diritto di farlo perché Kadirov quando era ancora minorenne era in giro per i boschi prima a fare la prima guerra Cicena dove era contro i russi con suo padre poi dopo ha fatto la seconda guerra Cicena dove era con russi contro i terroristi quindi quest'uomo lo sa benissimo cosa vuol dire essere in quel paese vivere in quel paese tenere l'equilibrio in quel paese e ha tutto il diritto di fare quello che ha fatto quindi io quando leggo certi approfondimenti qua in occidente veramente amici io ultimamente sto capendo che gli occidentali in grandi linee sono persone disinformate non capiscono niente non sanno cosa succede nel mondo però si sentono veramente al di sopra di tutti quanti fanno dei commenti che sono allucinanti ma anche sui paesi dove non sono magari mai non sono mai stati solo perché applicano la propria visione applicano la propria esperienza applicano ma prima di giudicare gli altri bisogna innanzitutto guardare se stessi ma poi farsi due domande ma non è che quegli altri se fanno così c'è un motivo magari che noi non capiamo quindi amici io vi invito di allontanarsi da diciamo facili spiegazioni delle situazioni che sono molto complessi e dei quali la gran parte delle occidentali soprattutto dei giornalisti non vi racconteranno mai niente in parte perché non lo sanno in parte perché strumentalizzano la realtà per cui ricapitolando se figlio di Kadirov ha picchiato quel cretino che ha bruciato il Corano non è stato perché lui si è offeso come musulmano io volevo far vedere gli altri musulmani che lui può picchiare una persona è perché lui si è sentito tirato in causa perché ciò per cui è morto suo nonno ciò per cui ha lottato da un sacco di anni la sua famiglia è stato messo in difficoltà è stato minacciato dal gesto di questo idiota pagato dalle occidentali quindi cari amici riflettete prima di magari andare dietro a certe propagande di commentare di leggere certi approfondimenti ovviamente è vergognoso il Corriere della Sera non so se vuole leggere queste schifezze ha picchiato un prigioniero ucraino ma dove prendono queste notizie ma come fanno con quale coscienza quelle vanno a dormire non riesco a capire schifo più di così non si può è veramente una schifezza non è informazione una schifezza livelli di Goebbels livelli della Germania nazista uno schifo da mattino alla sera e questi continuano a lavorare vabbè pazienza siamo nei tempi così dove l'inferno di Dante si sta realizzando qua sulla terra con mostri diavoli e tutto il resto amici vi ringrazio per essere stati qui con me come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram dove potete approfondire varie notizie per evitare di essere presi in giro da questa nostra schifosa propaganda occidentale il link per l'abbonamento potete trovare nella descrizione a questo video se vi è piaciuto questo video se avete capito qualcosa io sono contento per cui vi invito di iscrivervi al mio canale youtube di commentare il mio video condividerlo con vostri amici come sempre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro si chiama La guerra e l'odio è un libro in cui io racconto le origini della guerra in Ucraina è l'ultimo libro della trilogia dedicata all'Ucraina se vi interessa questa tematica leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene e vi voglio bene e vi voglio bene grazie a tutti